Ciao, bentornata o bentornato sul mio canale, sono Federico, un appassionato di cinema e oggi vi parlo di Ghiaccio, opera prima di Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro quello di... Pensa! Prima di sparare, pensa! Prima di iniziare la recensione vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto di lasciare un mi piace, supportarmi, commentate se vi piace quello che dico o meno, buppo, fai un po' come vuoi tu Allora, Alessio De Leonardis, opera prima per lui ha diretto solo un documentario l'anno scorso su Franco Trentalance a questo punto sono curiosissimo di vederlo e Fabrizio Moro, cantante, vincitore di Sanremo, quanti anni fa quindi capiamoci, cioè, non stiamo commentando un film di un professionista ma comunque di un esordiente, quindi useremo peso e una misura diversi allo stesso... da una parte, allora saremmo... sarò molto indulgente dall'altra però... perché un artista poliedrico, come lui può piacere, non piacere che si cimenta nella settima arte capiamoci è uno scherzo? È un gioco? lo fa perché, buh, facciamo il regista, l'ho sempre sognato oppure è veramente una passione è veramente un'esigenza raccontare qualcosa tramite questo mezzo magnifico, stupendo, che io amo, che è il cinema quindi... date queste premesse vi racconto dei film eeeh... ve lo dico subito è un film che sta nel mezzo non mi sento né di distruggere ma ne neanche di elogiare ha dei punti molto banali molto già visti, molto sentiti e degli altri punti wow, top cazzo, qua c'è della stoffa, c'è della classe Ghiaccio è un film su un ragazzo interpretato da Giacomo Ferrara Spadino di Suburra, la serie che ha come mentore mentore, questo ex pugile interpretato da gigantesco gigantesco Vinicio Marchioni che per i più è il freddo di romanzo criminale la serie e tra l'altro c'è anche un altro personaggio quello che fa il libanese da anziano io stavo con il libanese non mi ricordo era il nome dell'attore approcciandomi a questo film ho detto spero che non sia la solita cosa di riscatto sociale evasione racconto di periferia il ragazzo che spaccia che è costretto per aiutare la madre orfano di padre che ha avuto terribili trascorsi con la mafia che è stato ucciso dalla stessa e quindi questo voler discostarsi da quella realtà per diventare un campione però con l'infantilità la non maturità che ancora ha raggiunto che raggiungerà grazie al suo mentor allenatore è un film che sai già cosa succede sai cosa t'aspetti ci sono quelle dinamiche cliché purtroppo di tutti questi tipi di film la droga il boss mafioso che ti tiene sotto torchio a te con i debiti ancora del padre a te a tua madre e ti ingabbia in questa vita quindi da quel punto di vista è un film che che abbiamo già visto io apro questa piccola parentesi non ne posso più dei film con le pistole non ne posso più quelle situazioni quelle scene ci ripeghiamo tutto quello che è nostro mani in alto ehi tu posa quella pistola non ne posso più di vedere film del genere cioè nella recensione precedente un eroe di Asgard Faradhi non c'è neanche un'arma da fuoco cioè quanto quanto siamo schiavi di queste dinamiche di potere buono cattivo pistole eroe supereroi raggi laser super forza esplosioni veramente la vera la vera come si dice non lo so basta ma ha rotto il car cioè dopo i soperano e dopo Goodfellas ha senso ancora fare cose sulla mafia sì perché piacciono perché le nuove generazioni vedono l'anti-eroe come affascinante stupendo piacciono il poliziesco piace il giallo piace si rimane ingabbiati in queste cose qua vabbè ho parlato malissimo di questo film sembra uno schifo dici perché hai detto non è né brutto né bello perché ha delle cose belle ha dei guizzi scenici e di recitazione puramente estetici molto validi mi viene in mente una scena ambientata in un club dove c'è questa musica super martellante e succede una cosa che a me visivamente piace un sacco che generalmente apre un piano sequenza anche se non c'è in questo caso un piano sequenza e sono quelle riprese lunghe tenute lunghe senza stacchi ok c'è proprio pillole di cinema in un secondo praticamente il nostro il protagonista il pugile Totti questo sarà il soprannome perché lui ha questa felpa grigia con Totti sulle spalle dieci però una T è consumata si è staccata la cucitura e quindi lui avrà questo soprannome Totti cioè questa per me è una cosa stupenda quelle cose che diventano subito meme diciamo così iconiche tu hai questa immagine da dietro personaggio riconoscibilissimo queste spalle questa felpa con la scritta dietro Totti e ti ricorderai per sempre di questo personaggio nome mi pare si chiami Giacomo Gio Giovanni non mi ricordo neanche il personaggio esatto però il soprannome che gli danno Totti perché anche lì ci sarà un personaggio che il boss mafioso piscia sotto che farà tutta la sua retorica sul nome che t'affibiano nell'adolescenza che poi sta a te usarlo come un potere oppure diventare succube di questo soprannome lui dal boss dal ragazzino aveva paura di tutto poi è diventato lui potente ed è la gente che ha paura di lui quindi piscia sotto sei tu che ti pisci addosso quando vedi lui e anche questa è una cosa carina vi stavo raccontando di questo ingresso dentro un club che mi sembrava appunto un piano sequenza in cui loro entrano da un lato del locale invece la macchina da presa va dall'altra parte e poi si rincontreranno ecco queste cose qua quando la macchina da presa non segue pedissequamente il personaggio mi piace perché è un altro punto di vista noi non siamo per forza sempre con loro no ma siamo all'interno del club cioè in quel momento è come a dire sei con un tuo amico l'hai perso per un attimo nel locale tu hai una via di fuga no cioè una via di ingresso diversa però poi vi rincontrerete quindi noi in quel momento spettatori eravamo all'interno del locale non eravamo da fuori a vedere lui che cosa farà ma sono quelle chicche sono quelle cose che danno quel quid in più sono quelle cose su cui secondo me questi due registi esordienti devono lavorare nella stessa scena anche un'inquadratura dall'alto con una fotografia digitale una correction molto molto potente che può piacere o non piacere però in quel caso era molto era molto forte rendeva questa rissa che si vede dall'alto molto carica di tensione il titolo del film è questa metafora che l'allenatore fa al suo atleta sul fatto di dire quando tu hai dato tutto nella tua giornata hai lavorato ti sei svegliato hai portato il pane a casa ti sei allenato hai combattuto e ti sanguinano queste mani e queste mani che ti fanno male le infili nel ghiaccio quel ghiaccio è la prova che dici oggi hai vissuto come si deve e io che sono un pigrone scansa fatiche mi sento un po' in imbarazzo quando vedo queste cose qua però allo stesso tempo sono di ispirazione e un'altra cosa che mi è piaciuta è il combattimento allora eravamo a un certo livello estetico che non è eccezionale a parte qualche piccola chicca ha arrivati al momento del combattimento perché la box si vede solo nell'ultima parte del film e io ho detto allora qua deve esserci il piano sequenza devi farmi l'incontro come fosse vero perché devi darmi un tono a questo film ok mi devi dire o mi fai un incontro vero e quello sarebbe vabbè una cosa al di là del cinema cioè pensare lo svarione che mi sono fatto io guardando il film ho detto ma se facessero un film in cui veramente imprevedibile anche il finale perché facciamo incontrare davvero gli attori lottatori atleti e chi vince poi deciderà l'esito del film cioè svarione nella mia parte ho detto è una roba geniale così oppure me lo devi girare come dio comanda ed effettivamente l'incontro è girato come dio comanda cioè hai praticamente due round poi un amico che era con me in sala mi ha detto che c'era un taglio fantasma che però io personalmente non ho notato quindi era molto fluida la scena e abbiamo due round completamente in piano sequenza che ha battuto la messa in scena di Creed nato per combattere in cui c'è solo un round e quindi wow tanta roba lì ho detto cioè nei film sulla box sono stati girati in qualsiasi modo Rocky per quanto era iconico la messa in scena della Pugilato era terribile ok qua invece dici ah sì finalmente mi stai facendo vedere e sentire i pugni perché tu sentivi i pugni se questa cosa di fare il cinema Fabrizio Moro non è un gioco ma è veramente una passione è veramente un'esigenza ok sei partito da questa storia che ti sta a cuore molto facile il pugile il pugile i buoni i cattivi però parti da queste cose qua parti da queste scelte visive e voglio decollo per il resto film che non sono uscito dal cinema incazzato ma neanche esaltato è un film che comunque ti fa chiacchierare ti fa chiacchierare non ti senti di essere stato fregato del costo del biglietto ultima parentesi Vinicio Marchioni io ti amo cioè quel sorrisetto che fai in certe scene quella presenza fisica muscoli che hai messo su per il film io ti amo che hai messo che hai messo